Tre denunce nel corso del fine settimana ad opera dei carabinieri durante i controlli del territorio in città e in provincia. In Viale Regina Margherita è stata fermata una macchina guidata da una 37enne. Il risultato della perquisizione dell'auto è stato il ritrovamento nei sedili posteriori ben occultati di un coltello a serramanico con lama lunga 10 cm circa. Il passeggero ha ammesso che l'oggetto era di sua proprietà e per questo è stato denunciato. A Sommatino i carabinieri hanno trovato nell'abitazione di un giovane ben occultati sotto un armadio tra involucri di calta stagnola contenenti complessivamente 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed un flaconcino con all'interno alcuni semi di camnapa indiana. Il giovane è stato segnalato alla prefettura per violazione amministrativa poiché ha assuntore di sostanze stupefacenti. Ed infine a San Cataldo è stata ritirata la patente e denunciato un uomo trovato in stato di ebbrezza alla guida della sua autovettura.